A poche ore dalla chiusura dei seggi, dopo cinque giorni che quella manifestazione era in corso, la polizia a utilizzare quegli idranti che probabilmente non avevano acqua quando si trattava di spegnere i fuochi dei rave di quest'estate, per disperdere una manifestazione di lavoratori che in quel momento non commettevano violenze. L'articolo 17 della nostra Costituzione, se ancora ha un valore anche in quest'Aula, cita che i cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senza armi. C'erano persone armate, erano persone non pacifiche quelle che erano sulla piazza? Le manifestazioni possono essere vietate soltanto per comprovati motivi di sicurezza e di incolumità pubblica. Che cosa è accaduto in quel frangente? Perché non ci ha chiarito perché ci sono state le cariche di polizia a dispendere gente che pregava? La mia solitarietà va a quella piazza non per l'argomento, cheppure ha delle ragioni, perché la vicenda del Green Pass incide sul diritto sancito dalla nostra Costituzione all'articolo uno di lavorare. E va anche correlato con quanto in Europa è stato disposto di divieto di discriminazione dei lavoratori, così dice l'Europa, che scelgono di non vaccinarsi. E lo dice una persona vaccinata, una persona che crede nella vaccinazione, che invita a vaccinare. Grazie. Grazie.